intanto il numero 3 con l'albertore e da me ne gratti mi è dati per scusa l'inzio l'inzio mollare a trapeo ma mio un primo giro per il piloto di un passato allo 18 per noi un passato per noi per vedere chi sarà il meo meo l'endura signore sotto la bandiera mi ha in cala la sudembre in questa finale due poi classifica l'assoluta è sempre in questo momento al mio contragiri con il numero 3 secondo poi poi i balletti all'ultimo giro con la anche che c'è la sua con la centrale sta arrivando qualche pilota la passata l'antima ha un bellissimo vantaggio per cui può affrontare questa fase in tutta tranquillità con la sua squadra CH Ressica a Guammeo grande protagonista di un finale di stagione mondiale di un finale di stagione degli assoluti d'Italia di Endure lo è qui all'Arena Lotto Live Endure Endure sta per iniziare l'ultimo rettilineo adesso spalle attenzione passando da dove sempre a Vergoni poi c'è Potturi e si pianta si pianta ma riparte e la direttura da vivo accaduto anche da Andrea Belotti inizia a mangiare il vincitore la sua squadra vince a Cagliolo Lotto vince il pilota un squadro a vincitare con la sua 2,54 tempi e attendiamo la classifica seconda posizione intanto per il numero 3 si pianta Botturi attenzione seconda posizione per Simone Belconi in questa manche poi la terza per Alessandro Botturi e attenzione perché Alex Belovetti ha superato Andrea Belotti scusate la Schermannetti che ha mollato proprio in questi ultimi istanti naturalmente allora attendiamo la classifica ufficiale per premiare i primi tre naturalmente su tutti